Ci troviamo nell'atrio dello storico collegio dei Calanis, vicino all'Accademia Venezia, per inaugurare l'anno accademico dell'Università della Terza Età, dove hanno sede i corsi per tutta la durata dell'anno di questa importante istituzione che è anche supportato dal Rotary Club di Venezia. Io in quanto rotariano sono stato invitato a presentare una figura molto particolare che con mio grandissimo piacere potrò approfondire nella prossima conferenza, che è quella di mia nonna Lida Borelli. Qui nell'atrio abbiamo cominciato a mettere una serie di gigantografie, di immagini molto particolari, di lei attrice, attrice prima di teatro e poi attrice di cinema, ma di lei soprattutto protagonista assoluto del cinema italiano muto negli anni tra il 1913 e il 1918. Quindi questa conferenza sarà un'occasione per richiamare la memoria di questo importante personaggio, a me molto caro, ma sarà anche un momento importante di apertura di questi corsi dell'Università della Terza Età a Venezia, che ha una lunga, lunghissima tradizione, con centinaia di allievi, decine di docenti e numerosissimi corsi di tutte le più varie materie di interesse umano, direi. E adesso, adesso arriva il clou della serata, e cioè abbiamo Giovanni Aliata, che ci racconta, nei suoi ricordi era bambino piccolo, ma di questa grande diva del cinema muto, che è stata Lida Borelli, che era la sua nonna, una donna bellissima e affascinante, che ha avuto una vita bellissima e affascinante. Giovanni Aliata, io credo, ho trovato in internet un tuo scritto, e te lo sei raccontato da te. Sono nato a Roma, ecco, sì. Però quello che... Non ho solo la prima frase. No, io direi che invece di saltare la prima frase, passando alla seconda, sposato con Michela Vanol, che è appena arrivata, che ha due figli. Ma quello che vorrei dire, perché lo so, di Giovanni Aliata, che è un uomo di grande intelligenza, cultura profonda, e grandissima, grandissima generosità. Nei confronti di Venezia, è veramente una sorta, io lo vedo come una sorta di lume, perché lui con grande spirito, non già solo di solidarietà, ma proprio di intelligente partecipazione con tutte le manifestazioni veneziane, le sorregge dalla parrocchia dei Gesuati, che è la nostra parrocchia poi, perché adesso le parrocchie sono tutte insieme, e a tante altre cose, anche quelle che più li stanno a cuore, che credo che sia la fondazione, la fondazione della Giorgio Cini, di cui lui è il presidente, consigliere, no, ma è la fondazione allora, no, è quell'altra fondazione, dell'archivio, dell'archivio, in cui è riuscito a far digitalizzare tutta la documentazione relativa a questa straordinaria famiglia, che per Venezia ha voluto dire tanto. È una lunghissima serie di attività a cui lui si dedica veramente con amore e con trasporto, in particolare lo vediamo sempre in prima fila per quello che riguarda l'Associazione Italiana contro le Leucemie. è il centro culturale della laguna, per la valorizzazione della laguna di Venezia e delle sue isole, la Venice International Foundation, che sostiene i civici musei veneziani. Devo dire che è un personaggio importante per Venezia, io sono felice che lui sia qui e che abbia avuto il tempo, perché sei preoccupatissimo, anche di dedicarci quest'ora, questi non so quanto, per raccontarci questa sua nonna speciale, molto speciale. Grazie Giovanni. Devo ringraziare enormemente Irene per queste sue cortesissime parole, ma soprattutto perché quando a luglio addirittura mi ha chiesto di fare questa indegna, come si può dire, prolusione a questo importantissimo corso, quattresimo, dell'Università della Terza Età, io ho accettato molta gioia, e ho detto non sono digno, ho detto sì sì, vedrai, vedrai, vedrai. Poi andando avanti, è successo in tutte e due settimane, purtroppo mi sono beccato un'influenza che mi ha sostanzialmente distrutto, in maniera proprio, un po' di diciamo, basica, come si so dire, però un altro accolato appello, lunedì, stavo per dire ragazzi, non ce la si fa. Però un altro signore, che era qui a questo tavolo, che mi lega un affetto molto forte, che è Giger Berotanza, storico vicepresidente del Rotary e dell'Università della Terza Età e di tutto il resto, quando ho detto, vabbè, Giovanni, vabbè, allora, non possiamo non farla. Poi l'ultimo colpo di grazie, per così dire, tutto in giornale, qui c'è una Sabrina, senza la quale non saremmo naturalmente riusciti a vedere queste cose, per cui la devo ringraziare anche dal punto di vista informatico, con ben tre computer, tre chiavette, cercando di mettere, se è riuscita brillantemente a metterle in sequenza, vediamo se è vero. perché io sono abituato ai mouse, con il dito vado meno bene, ma, e quindi, e quindi così, quindi, niente, vi ringrazio a tutti, così numerosi, per essere presenti, ma l'importanza, voglio dire, sia, vabbè, si è parlato del Rotary, ma è capitato anche di fare presidente, un paio, due, tre anni fa, e così come l'Università della Terza Età, sono uno dei punti importantissimi, e anche in giro per Venezia, si riscontra, quella che è l'affetto, direi, per questa istituzione, quando si dice appunto, Venezia si svuota, Venezia non ha, Venezia non ha, attraverso tutte le fasce di età, indubbiamente, questa è una manifestazione, in contrario, contraria a questa tendenza, diciamo, alla, allo svuotamento, diciamo, dell'anima, anche culturale, della città, e quindi, io sono molto, molto contento, auguro ogni bene, a questa Università della Terza Età, e veniamo a Lida Borelli, adesso, Lida Borelli, volevo premettervi, che in effetti, è un lavoro, molto, grosso, in corso, sostanzialmente, quello che era successo, comincio dalla coda, diciamo, da quando lei passou vita privata, nel 1918, sposando Vittorio Cine, cioè, fino agli anni, diciamo, ultimi anni 50, dopo la morte di Giorgio, unico figlio maschio, nel 31 agosto del 49, quindi, sono stati 70 anni, un paio di mesi fa, ebbe, praticamente, lei sentì, la sua vita, praticamente, diciamo, distrutta, per cui, era, rimasta, viveva qui, tra Venezia e Roma, e qualcuno, ancora una qui, è stata evocata, anche la parrocchia dei Gesuati, effettivamente, stati parrocchiani, praticamente dal 1918, quando Vittorio Cini, con Lida, si trasferirono a Venezia, e presero il palazzo, di Sanvio, e in effetti, anche qui, la parrocchia dei Gesuati, era un altro delle realtà, per cui, anche, mio nonno, ha fatto tante cose, ancora insospettate, diciamo che, c'era stato, nei confronti di Lida, un grande, un, un, totalmente, l'uscita dalle scene, aveva significato, mi ritorno in mente, Grace Kelly, quando sposò, l'agliere in Monaco, cioè, l'abbandono totale, delle scene, ma, in questo caso, siccome parliamo, di parecchi anni prima, anche, una specie di, cancellazione, sostanzialmente, della memoria di Lida, dalla famiglia, perché, posso anche capire, diciamo, la figura di mio nonno, d'altronde, Lida aveva detto, il mio amore, è il mio pubblico, nel momento, in cui, mi innamorassi, di un uomo, lascerei le scene, e di fatti, così è stato, questo l'aveva detto, in periodi non sospetti, quando, di corteggiatori, e il resto, ne aveva, ben tantissimi, come nei film, di cui vedremo, qualche spezzone, dei suoi, infiniti corteggiatori, anche nella vita reale, indubbiamente, c'erano, non solo in Italia, ma anche, in Sud America, quindi lei, nel momento, in cui ha fatto questa, dedicazione, sostanzialmente, alla famiglia, ai quattro figli, eccetera, però, da parte, anche di mio nonno, c'è stato, un momento, diciamo così, di gelosia, assoluta, peraltro, lei essendo consensiente, perché, non sto citando qualche fatto, dei soldatini al fronte, durante la prima guerra mondiale, quando lei era diva, appunto, cinematografica, oltre che teatrale, quindi i film di Dida, giravano nelle sale, e quando dice Diva, voleva dire Diva, insomma, qualcuno chiede, ma non ci sarebbe stata, Marilyn Monroe, in effetti, abbiamo trovato alcune cose, ma, anche relativa alla Duse, che Marilyn Monroe, ma queste attrici italiane, di quel momento lì, hanno fatto, proprio, la storia dello spettacolo, non solo in Italia, dove c'era il monopolio, fino a metà degli anni Dieci, poi negli Stati Uniti, successivamente anche, quindi, nelle cartoline dal fronte, i soldatini scrivevano, come Marilyn, intornamente, perché dal Vietnam, andavano i soldatini americani, in quella in fausta guerra, ma tutte le guerre, sono in fausta, oserei dire, anche nella prima guerra mondiale, erano le cartoline, di Diva Borelli, le cartoline di Diva Borelli, che mandavano alle famiglie, dicendo, caro papà, cara mamma, eccetera, ed erano proprio così, questo per risollevare, diciamo così, il morale alle truppe. Posso capire, che con questa diffusione, diciamo, assoluta, ci potesse essere, un momento da dire, no, basta, c'è lo stacco dalle scene, e quindi, anche di tutta la documentazione, di tutti i ricordi, di tutto il resto, insomma, non deve circolare, diciamo così, traccia. Il ritiro di Lida a vita familiare, e diciamo, piuttosto a vita privata, perché poche occasioni è venuta, partecipava a quelle che erano di Vittorio Cini, occasioni istituzionali importanti, sia a Venezia che a Roma, c'era qualche volta, ma era sempre dietro le quinte. Quindi, testimonianze di persone, anche chi l'ha vista qui a Venezia, adesso non lo vedo più tra di noi, perché Giuseppe Teso, che è il cosiddetto maestro di casata, che venne a Venezia nel 1953, a Casacini, con mia madre incinta, tra l'altro, e ha seguito quindi gli ultimisti anni di Lida, e mi dava delle testimonianze dirette, di un'assoluta riservatezza, del non uscire fuori, anche tra andare su e giù, in questi viaggi da Roma a Venezia, abbastanza anche in inconio, perché anche allora, parliamo di metà degli anni 50, c'era sempre, da parte dei fotografi, l'interesse per quella che era stata la diva, e quindi a volte si appostavano al ponte qui di Sanvio, per rubarle qualche immagine, diciamo, nel momento in cui viaggiava, cosa, diciamo, oggi abbastanza, forse incredibile, però effettivamente è quello. Questo, cancellare la memoria, ha significato, per esempio, i cinema, i film ritirati, ne vedremo anche le spazioni, ritirati dalla circolazione, non solo, ma una serie di copie, oltre che ritirati dalla circolazione, anche nascoste, se non addirittura distrutte, quindi un'opera molto grossa, negli ultimi decenni, una rivalutazione partita a Roma negli anni 70, diciamo, da un signore che si chiamava José Pantieri, tra l'altro, del Museo del Cinema, a Roma, recuperando del cinema muto, iniziò a primi spezzoni di pellicola, eccetera, altri, le varie cineteche, anche a Buenos Aires, è stata ritrovata una delle copie di questi, di questo film, e soprattutto in Italia, ha lavorato moltissimo la cineteca di Bologna, che ha restaurato copie di vari film, e la cineteca di Milano. Adesso, se riusciremo a arrivare in fondo, c'è un riepilogo dei film, di un quarto d'ora, che ripercorre le tappe, è molto significativo, perché sono le immagini, quello che contano, e voglio ringraziare, appunto, il centro di Milano, proprio perché ha fatto un grosso restauro, e con molta difficoltà. Quindi, negli ultimi anni, stiamo procedendo, negli ultimi anni, mia madre, per fortuna, aveva salvato, di sua madre, un archivio abbastanza, di immagini, non so, l'Ida era fotografa, faceva queste macchine fotografiche, e faceva le foto, poi era anche, coltissima evidentemente, ma essendo donna di teatro, e quindi stia recitando, che era, raccoglieva a se stessa, si faceva la segna stampa. Quindi siamo riusciti a fare questa mostra importante, due anni fa, a San Vio, tirando fuori, anche dalle parti di famiglia, quel che relativamente poco era rimasto, però, di documentazione, proprio di tutto questo processo, rivalutando la Lida, attrice teatrale, perché è molto importante, lei fin da picco, lei era figlia di Capo Comune, adesso, insomma, avete due volantini, trovate, non vi ripeto, la storia, per non perdere tempo. Comunque, lei è nata nell'87, figlia alla Spezia, tra l'altro, ma neanche si sapeva, abbiamo finalmente ritrovato in archivio il certificato di nascita, non ancora quello di matrimonio, però, adesso, un dubbio, che avanza. No, vabbè, insomma, il matrimonio, in effetti, è giugno del 18, in Toscana, ma anche quello molto nascosto. E allora, trovando queste cose, lei praticamente, era figlia di Teatranti, e come era successo, fatto anche per l'Eleonora Duso, insomma, due vicende analoghe, e iniziò da bambina, praticamente, nel tavolo del palcoscenico. E quindi, qui ci sono alcuni riferimenti alle più importanti compagnie italiane, la sua abilità, oltre che culturale, anche di imprenditrice, fece sì che diventasse capo comica, per così dire, poi con maggiori, sempre responsabilità, nelle varie compagnie che andavano avanti, fino ad esplodere, nel 1912, praticamente, a Roma, con il Cir, come si chiamava, perdiamo, però questo gruppo molto importante, cui aveva un ruolo determinante, di teatro, e nel 1913 parte la carriera cinematografica. Quindi siamo riusciti, in questo ultimo periodo, a mettere insieme, devo ringraziare tantissime persone, sicuramente, a parte, ah no, è Sabrina per oggi, perché è arrivata l'ultimo minuto, circa cinque giorni fa mi diceva, ma mi vorresti per caso portare qualche chiavetta, così vediamo di capire qualcosa? Io che ho steso nel letto di dolore, non ho portato nulla. No, l'Istituto di Storia, l'Istituto di Teatro e Melodrama, della Fondazione Giorgio Cini, che è stato un momento catalizzante pubblico, di questa ripresa della cosa, mia sorella appunto, che era depositaria anche di vari materiali archivi, stiamo andando avanti, riusciti a realizzare questa mostra, e poi però anche, andando in giro, a Buenos Aires, ad esempio c'è stata una produzione di questo film, La Memoria dell'altro, di cui vi farò vedere qualche spezzone, anche perché ci sono spezzoni veneziani, e questo film ad esempio è stato un momento, il restauro con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, in fatti specie, e con l'esecuzione del pianista dal vivo, più di una volta, anche a Pordenone, l'abbiamo fatto qui all'Ateneo Veneto, l'abbiamo fatto da ultimo, scusate il disordine, perché non riesco, il 4 giugno scorso a San Giorgio, perché il 2 giugno, cioè due giorni prima del 59, l'Ida era morta a Roma, quindi hanno voluto fare proprio l'istituto, riproporre questa proiezione della memoria dell'altro, con un altro piccolo ensemble, che faceva la musica dal vivo, perché questa era il significato, quindi è un processo in corso, abbiamo continuamente notizie, io devo ringraziare tantissime persone, oltre che il discorso dell'archivio, naturalmente, perché c'è dell'archivio Vittorio Cini, che c'è anche una sezione lì da Vorelli, che non pensavo che ci fosse, quando l'archivio stava per essere distrutto anch'esso, cioè ho notizie, adesso direte, per esempio i vestiti di scena di Lida, purtroppo in questo fatto di cancellare, diciamo la memoria, furono messi dentro e archiviati, essendo ancora lei viva, però purtroppo, diciamo, delle figlie, mia madre aveva un certo, diciamo una certa impostazione, e si vede anche lì col museo di San Vio, altri momenti in famiglia, purtroppo sono andati dispersi, sia i gioielli, soprattutto gli abbi di scena, ma anche le vesti da sede, e tutto il resto, perché durante gli anni, anche dopo le scene, mio nonno sempre le ha dato il massimo, diciamo, della visibilità, che lei, quando la volesse avere, ben inteso, diceva che viveva molto riservata, però quindi sia di abiti, di cose altre, purtroppo negli anni successivi, poi dopo la morte di mio nonno, la chiusura della casa, le cose, eccetera, non abbiamo più ritrovato, abbiamo ricostruito in occasione di quella mostra, tre abiti di scena, dalle fotografie, e dalle gigantografie, qua sotto tra l'altro io, con un po' di sforzo, e gli devo ringraziare appunto, il summenzionato Beppi, Andrea ed altri, che portando queste gigantografie, le avevamo fatte per una mostra a Ferrara, in occasione del Film Festival di Ferrara, tre anni fa, e poi niente, le tenevo lì nelle vetrine, diciamo, del negozio, le abbiamo portate qui, per vedere anche fisicamente, però saranno molto più forti le immagini, dei film, e altre immagini, a cui arriveremo adesso, e aveva anticipato questo tema, per dire come la vita successiva, al ritiro delle scene, evidentemente è stato un momento, di gioia sua, appunto, anche il fatto della maternità, i figli, aveva allevato questi ragazzi, fino alla seconda guerra mondiale, comunque la vita di Vittorio Cini, è stata drammatica, ha avuto riflessi pesanti, anche su Lida indubbiamente, tra cui da ultimo, l'arresto dopo l'8 settembre a Roma, quando lui si dissociò dal regime fascista, essendo Ministro delle Comunicazioni, per qualche mese, dal febbraio al marzo del 43, si dissociò a giugno da Mussolini, che mandò una lettera dulce, qui il paese è schiantato, bisogna uscire dalla guerra, fare la pace separata, e Mussolini tenne questa lettera nel cassetto, fino al 25 luglio, dicendo fuori, guardate questi disfattisti come Cine, e tutto il resto, in realtà quella seduta del Gran Consiglio, era stata pilotata, dietro le quintesi, anche da mio nonno, però da Grandi, Ciano e da altri, che votarono contro Mussolini, e lì finì il regime, ma con la fine del regime, sappiamo tutti, che non finì né la guerra, anzi, una frase atroce, che è quella appunto, anche della guerra civile, della guerra di liberazione da una parte, ma dell'occupazione nazista dall'altra, mio nonno fu catturato dai nazisti a Roma, nel settembre del 43, internato nel campo di concentramento di Dachau, e quindi insomma ci fu una rottura evidentemente non indifferente, per molti molti mesi non si sapeva neanche dove fosse finito, e mio zio Giorgio a quel punto intervenne invece, riscattando la vita di suo padre, intervenendo presso le altre gerarchie naziste a Berlino, io ho visto insomma qui nei documenti, c'era questo, partiva con l'aeroplanino qui dall'aeroporto Nicelli, volando fino a Monaco di Baviera, e poi da lì andava su, insomma riusciva a riscattare la vita di Vittorio Cini. Quello fu un primo momento in cui lida ovviamente l'angoscia, aveva solo una foto di lei con il ritratto di Vittorio in mano e le figlie intorno, e quindi fu un primo momento di molto severa, diciamo, da una vita assolutamente di vertice, diciamo, italiano, come era appunto quello di Vittorio Cini, e di riflesso anche per lei, a un momento di disperazione totale. Quando riuscì a uscire? Comunque c'era un aneddoto che non abbiamo scritto da altre parti ancora, però è stato raccontato, e raffredabile, perché poi Vittorio Cini, come succedeva spesso, anche durante il, insomma, col grande rilievo che aveva la sua persona, un terresto, eccetera, eccetera, ecco, questo serve per capire l'ida e anche la tristezza, al fondo anche della sua vita privata, a un certo punto, aveva però un'altra persona con cui sostanzialmente si frequentava dalla fine degli anni 30, fondamentalmente. Dagli ultimi racconti, questo si può dire, sono passati talmente tanti anni, però sono cose molto, indubbiamente familiari e private, che fu l'incontro sostanzialmente, avvenne a Milano con quest'altra signora, che era la Marchesa Maria Cristina Dal Pozzo, che era assieme a Letizia Moizzi, che allora Vittorio Cini con Ildro Montanelli in galleria, a quanto pare, si erano incontrati, loro due erano, diciamo, separati dalle rispettive mogli di fatto, e queste due signore, più giovani evidentemente, e lì iniziò un incrocio, non abbiamo trovato riscontri evidentemente pistolari, però sembra affidabile, attendibile. Certo che l'amicizia con Ildro Montanelli e con Letizia già proseguì per tantissimi anni, me li ricordo ancora qui a Sanvio, e anche dopo la morte di Lida e il matrimonio successivo di Vittorio con, ah, chissà da dove arriva, non è un... Maria Cristina Dal Pozzo, e quindi è stato un momento in cui era il dramma del, per dirvi, insomma, del 44, quando Giorgio era riuscito a tirarlo fuori dal campo di concentramento, facendolo tornare prima in Italia, poi c'è stata una serie di vicende, anche i rapporti con la resistenza, e da altri, poi si ritirò in Svizzera per prudenza, perché se lo riarrestavano di nuovo, sicuramente, quindi alla fine del 44 andò in Svizzera, essendo ancora in corso qui, la guerra, pieno titolo, e la signora, allora Lida, la grandissima donna qual era, nel senso che c'era stato un understatement, anche con Vittorio Cini, che ha detto, beh, sicuramente non ti farò mancare nulla, e la tua vita anche privata, insomma, per quanto può essere, però esiste questa mia relazione con quest'altra persona, e Lida, insomma, l'accettò in un certo senso, e disse, quando ebbe la notizia che era uscito dal campo di concentramento, ed era in salvo, stava tornando in Italia, dite a quella signora che Vittorio è salvo, questo vuol dire il carattere di Lida, che, insomma, situazioni drammatiche come quelle, sapeva e aveva fatto delle scelte anche lei, però, ecco, è stata sicuramente una vita abbastanza, no, perché qui mi era stato chiesto come tema, che era quello di vedere Lida dopo, e adesso ci piace a tutti vedere Lida bellissima, diciamo, in realtà come era prima, come già in queste immagini, andiamo a recuperarle, perché ci sono le immagini in cui era in scena, è stata protagonista di questa vita italiana, vuole dire, sì, sì, no, partiamo con le immagini del powerpoint, quello di famiglia, così il filmato, quello, quello no, della, sì, ecco, il primo dei due, che era praticamente, ecco, qui abbiamo tutta una serie di foto, di scena anche, perché era incredibile, per dirvi, ecco, questo lavoro della grande mostra fatta a Sanvio, e i lavori sugli archivi che si sta continuando a fare, anche negli archivi di Sanvio, e anche con la pazienza dei familiari, a parte mia moglie, Michela, testa evocata, mia sorella, e anche i miei fratelli, che sono molto lontani, però, allora, queste sono le, andando avanti, è questo, giusto, sì, ecco, perché la biografia c'è, ce l'avete già in mano, quindi non la ripercorriamo, però questo danno un'idea dei programmi di scena, dei manifesti, durante la sua vita teatrale, e poi ci stanno, ecco, il 1909, come vi dicevo, una prima svolta, prima attrice, con la compagnia drammatica italiana, diretta da Ruggero Ruggeri, ma è più per farvi vedere la foto, diciamo, che non questa parte, poi abbiamo le foto in scena, questa storia da Salome, è stata una storia incredibile, perché è esplosa, proprio in un successo straordinario, sì, appunto la prima regida a Roma, ma poi anche quando andò in Sud America, chiaramente, e quindi questo fatto di Salome, questa è una foto, diciamo, casta di Salome, poi ce ne stanno altre, abbastanza, sì, questa è una foto tranquilla, diciamo, di partenza per il Sud America, qui invece, ecco, abbiamo Salome, che come dire, con la testa del Battista, ogni commento è superfluo, direi, e poi si passa, il discorso del 1913, e lì ci inizia il cinema, questo, ma l'amor mio non muore, qui questa è una foto di scena, vediamo poi una sequenza successiva, quindi non perdiamo meno tempo, e sull'amor mio non muore, no, perché c'era un rinvio, adesso questa è proprio una scena, lo vedrete, che lei esce praticamente, stava dietro la scena del teatro, e quindi è una specie, dentro al cinema, il teatro dentro al cinema, ed è per due, in due occasioni, l'una è questa, e l'altra in cui il suo fidanzato, diciamo così, la osserva da dietro, da dietro le quinte, poi, vabbè, farò notare anche il discorso dei vestiti, che è particolarmente, quei vestiti che vi ho detto, ah, non vi avevo detto che finirono, appunto, ai miei bruciati, dopo, appunto, lo smantellamento della casa, qui dal 77, dopo, tra i vari rami della famiglia, che ce ne facciamo, archivi, vestiti, ma forse anche perché erano ricordi drammatici, e cose evidentemente non ben elaborate in famiglia, quindi, qui c'è tutta la sequenza, dei vari foto di scena, dei film, che anche lì trovate un elenchino, di tutti, e 14 film che le aveva fatto, di cui 12, sono trovati due proprio perduti, e quindi, ecco, ecco, la filmografia, questa è completa, ve la potete leggere più con calma. Questa è una foto particolare, perché è nello studio, presentemente, di Dittallone, e allora c'è lei, dal vivo, un suo quadro, che abbiamo rintracciato, poi anche messo in mostra, nel contesto dello studio dell'artista, quindi questo insieme di presenze, diciamo, metafoto, per così dire, è estremamente interessante. Qui tengo a questo, perché il teatro di Lida Borelli, è il libro che è lì, ed è il frutto del lavoro dell'Istituto di Storia del Teatro, quindi devo ringraziare Maria Ida Biggi, e Marianna Zannoni, che sono la direttrice, e diciamo la sua factotum, anche dell'Istituto, che hanno messo in piedi la mostra, è curato soprattutto questo catalogo, rivalutando la Lida, prima del cinema, e la parte, diciamo, di teatro, e quindi qui finisce, allora la storia, inizia praticamente la storia, la storia privata, perché vedete Lida, con figlio Giorgio, appena nato, questo 18, l'anno si sposarono, Giorgio nacque a novembre del 18, qui sono tutti quanti, quattro figli, la mia mamma è quella di sinistra, poi lì, Ilda, Giorgio e Min, e qui ecco, l'affetto di Lida, che appunto Giorgio, insomma, era, si può capire anche, fosse la sua pupilla, il suo pupillo, e quindi è così, quando, dopo, ma non era questo però, vabbè, adesso il PowerPoint, sostanzialmente, qui sono mischiate, molte immagini, abbiamo scelto quello sbagliato, adesso andare a recuperare, no, 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 questa era la versione, prima, e, vabbè, allora, andiamo avanti comunque su questa, e quindi, diciamo che con Giorgio era, 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 c'era questo legame, fortissimo, che si interruppe drammaticamente, il 31 di agosto del 49, quando Giorgio si scantò con l'aereo a Cannes, e anche lì è tutta un'altra storia, vabbè, adesso non si può fare tutto, ripercorrere, perché altrimenti, di queste foto, che vediamo un attimo, ci abbiamo foto, appunto, l'Ida con Vittorio, perché continuano attraverso gli anni, e soprattutto, questo fortissimo, le fu vicinissimo, negli ultimi dieci anni, dopo, la morte di Giorgio nel 49, fino al 59, quando l'Ida morì, appunto, si trascinò un tumore al seno, per parecchi anni, anzi, c'è le chemioterapie, e il resto, Vittorio fu vicino, qui a Tormina, vedete l'isola bella sullo sfondo, perché andava, durante l'estate, e anche in pezzi di inverno, per svernare, per avere un clima migliore, di quello che non fosse qui a Venezia, o anche a Roma, c'è questa foto divertente, però di qualche anno prima, lei alla finestra, e Vittorio, in Pantanocini e Bermuda, questa è Iana, che li fotografa tutte e due, a Tormina, quindi diciamo che sono foto, un po' mischiate, lei amava moltissimo le rose, quella foto, emblematica, non siamo riusciti a riscoprire, ancora, quando è esattamente, di quando è, l'Ida che tiene la foto di Vittorio, in mano, e le tre ragazze vicino, ma verosimilmente, deve essere del periodo, della cosa, e quindi, ecco, il discorso della morte, quando ci fu, vedete, la stampa che era, una lunga malattia, morì a Roma, a Grand Hotel, dove abitava, a Roma, sempre a Grand Hotel, per vari anni, e Vittorio Cini, fino, stavano sempre in albergo, attraverso gli anni, solo negli ultimissimi anni, aveva preso una casa, e anche una seconda casa, poi in funzione di lina, sulla Piantica, e arredandola, rimettendo la posta, eccetera, eccetera, poi purtroppo, l'Ida morì, allora disse, Iana, cioè, ma tu che cominci, dove hai parecchi figli, perché noi alla fine siamo in cinque, questa è una casa abbastanza grande, forse per i cinque figli, e quindi lì siamo ancora, con quella casa, diciamo, sulla Piantica, e, ah, perché andando avanti, ah no, questo è finito, questo PowerPoint, e quindi, vabbè, è stato uno, diciamo, che si orienta abbastanza di, forse di tutti, perché, dove ci sono le altre, la famiglia, e vabbè, la famiglia, vediamo un'altra, le percorriamo velocissimamente, le vediamo, perché qualcuna l'abbiamo già vista, e allora, quindi, ah, ecco, vabbè, quindi, vabbè, teatro, 1910, qui a Venezia, l'abbiamo tirata fuori, perché con la madre a Venezia, probabilmente nel 1910-11, in gondola, casualmente, e quindi, questa vocazione, questa affinità con Venezia, come vedremo anche nel film dopo, c'era già, quindi Vittorio Cini, a un certo punto, è venuto fuori, si sono conosciuti nel 16, durante la guerra, lui era ufficiale di Cavalleria, qui abbiamo, ecco, della vita di attrice, questo fatto della, oltre che essere nel film, la memoria dell'altro, dove c'è appunto, lei è avviatrice, era, lo era di fatto, amava sia gli aerei, quindi questo, Roma, era a Rimi nel 1911, perché pilotava anche lei, vicino alle automobili, lo stesso, questo fatto della modernità, dei primi anni dieci, che travolgeva un po' tutto, diciamo, anche l'ambiente, sia culturale che non, diciamo, solo i futuristi o altro, anche se qui, era tutt'altro giro, però, insomma, questo fatto della modernità, lei sicuramente è donna moderna, abbiamo vista già con Giorgio in mano, questa è una bella foto, con i due figli, la foto a sinistra, del fotografo Giacomelli, lei con Giorgio, il primo genito, e Minna la seconda, ma abbiamo in casa questo quadro, che sono salvate, alcune cose sono salvate, dalle iconoclastie successive, e quindi questa foto, a confronto, ho voluto mettere a confronto, era in mostra, comunque, qui abbiamo di nuovo i quattro, di qui sopra, questa l'abbiamo già vista, qui, sempre l'Ida con le due figlie, di nuovo la foto di Vittorio, di nuovo Iana che li fotografa, e sempre con Iana, che è così, questa non sappiamo esattamente, se era proprio sulle Dolomiti, o era piuttosto, forse in Svizzera, allora, chi riconosce le montagne sullo sfondo, può dare qualche suggerimento, va bene, se riconosce la silhouette, non è il resegone, comunque, e quindi, allora, ecco, lì, questa era Giorgio, era un bel ragazzo, naturalmente, e quindi questo che vi ho detto già prima, questa morte che stroncò la vita di Lida, per gli ultimi dieci anni, proprio, e quindi, questa è Taormina, l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista, questo è il Corroseto, perché chiamava moltissime cose, queste sono altre due foto, leggermente precedenti, in cui aveva questa espressione, comunque molto melanconica, sicuramente, può essere trascinata, questo è il Teatro Verde di San Giorgio, all'inaugurazione, 1954, completato il restauro del Teatro Verde, eccetera, nelle prime manifestazioni e spettacoli, messi in scena lì, lei, appunto, come vedete lì, in mezzo, trascinata di bianco, partecipò, benché, appunto, già, fosse un pochino a ciaccatella, e quindi così, questo l'abbiamo già visto, questo qui, un altro ritratto di Lida, sempre che abbiamo in casa, oltre a quello precedente, poi, naturalmente, è rimasto il mito, il busto di Lida Borelli, non so, c'è una casa Lida Borelli, a Bologna, intestata, che mio nonno, vuole restaurare, ampliare, e fare per attrici e attori drammatici, che in tarda età, e succede ancora oggi, c'è anche una legge dello Stato, tra l'altro il Bersystem, perché non è che la garanzia di essere un attore, fosse certezza di essere ricchi, e di arrivare fino in fondo, questa è la, le ho messe insieme, perché c'è il manifesto della mostra, c'è stata Palazzocini, e questo libro contestuale, il teatro di Lida Borelli, quindi questo è stato uno sforzo molto grosso, e ringrazio di nuovo Maria Ida Biggi, e Mariana Zannoni, per quello che è stato fatto, e poi andiamo avanti, poi abbiamo qui le brochure, le altre cose, sono tante altre, anche le persone che partecipano, ho visto prima, per esempio, anche Silvia Risnati, che assieme ad Arianna, fanno le brochure, la roba, eccetera, e poi ci sono i siti, io adesso, rispetto al mio, che diceva, no, perché sono da Irene, che aveva cominciato, una biografia, e ci stanno, no, stiamo cercando di coordinare, tutto questo grosso movimento, diciamo, partendo da Vittorio Cini, che è un mare magno, è l'Ida, di conseguenza, e nei siti, c'è il sito lì da Borelli, abbiamo fatto, e cerchiamo di implementarlo, oltre che mano a mano, ma in giro c'è una marea di informazioni, perché negli ultimi 10-15 anni, è una moda amplissima, e quindi ci sono di tutto, avete visto poche fotografie, passiamo ai filmati, che è il meglio, con il che io smetto di parlare, perché siamo vicini, all'ultimo respiro, e vi lascio alle immagini, anche se magari, eh? Lungo o corto? Dunque, due, cominciamo con quello, sì, 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 quello lungo, perché lì percorso, la Cineteca Italiana di Milano, ha fatto sia questo filmato, che un altro in occasione della mostra, facendo una sintesi, dell'attività cinematografica di Lida, ma, eh, beh, questo è uno dei due, diciamo, questo è precedente, era di due o tre anni fa, e poi c'è quell'altro, intanto, andiamo a questo, che abbiamo un minimo di, eccolo, anche qua non so se, questo è, questo è, questo è, questo è, questo è, leggo il cartello a loro, nel 1903, sull'onda di una brillante carriera teatrale, Lida Borrelli, debutto al cinematografo, con, ma l'amor mio non muore, di Mario Caserini, il regista, il film si apre, con una lunga e memorabile inquadratura ravvicinata, a un primo piano, che rivela il gioco recitativo, della grande attrice teatrale, per quattro, e. il film mette in cielo il melodrama di una donna aristocratica costretta a complesse vicende sentimentali a darsi al teatro e alla disinvolta vita di palcoscenico è proprio autobiografico chiaramente si siede si apre il sipario e diventa donna di spettacolo cambia proprio il cambio di atteggiamento il film si chiude a una sequenza drammatica che ha anche un numero di bravura autoriale la protagonista interpretata da Lida si avvelena per amore e muore in palcoscenico che ha anche la regagna che ha anche il film non ruo Grazie a tutti. 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 Nel 1913 e l'altro film, La memoria dell'altro, con Mario Bornaggio al suo padre, lì da parlare è una giovane avviatrice contesa tra un principe e un giornalista. La spregiudicatezza e la modernità del ruolo faranno comiare alla critica la definizione di donna dinamizzata. Come vi dicevo prima rispetto alla modernità, aerei e automobili. Non sempre riescono tutti al primo colpo. Grazie a tutti. 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 Allora, passata la Cines, la Borrelli forma un tubulento sodalizio artistico di regista Carmine Gallone, che la subito la impiega in lavori ambiziosi. I film come la donna di film come la donna nuda del 14 si rivolgono al pubblico altoborghese delle prime teatrali. I film fatti. I film fatti. I film fatti. I film fatti. Madame Tallien, per la regia di Guazzoni, interpreta l'eroina della rivoluzione francese. Il film presenta numerose allusioni alla grande guerra ormai divampata in Europa, 1916. Il film intostuma, eccomi lì. Un cammeo, prima e dopo. Il vertice dell'arte interpretativa è raccolto nei due film che ne chiudono la breve ma intensissima carriera cinematografica. L'apsodia satanica, Nino Ozziglia, 1917, è l'altro carnevalesca. In particolare l'apsodia satanica, un poema visivo diretto a Nino Ozziglia con la musica di Pietro Mascagni che la compose apposta con tutta l'orchestra sul film. È una vicenda molto coinvolgente. Lei, anziana, fa il piatto con Mephistofele per recuperare la bellezza da giovane. Seduttore, tentatore. In questa sequenza la protagonista del film, la contessa Alba d'oltrevita, stipula un patto col diavolo e riacquista temporaneamente l'antica bellezza. Allora, l'abbiamo visto prima. Allora, l'abbiamo visto prima. Allora, l'abbiamo visto prima. L'abbiamo visto prima. L'abbiamo visto prima. C'era il cartello, mai fare il patti col diavolo. Quindi tra il 13 e il 18 interpreta lì da 14 film, alcuni dei quali sono oggi dispersi, due almeno. Questa è la Falena, Carmine Gallone, è uno spezzone molto corto che la Cineteca Italiana di Milano ha ritrovato e restaurato per quanto possibile. Adesso rivediamo quelli di cui abbiamo visto prima. Venezia, come vi dicevo, come vi dicevo, questo è un frammento. che era un frammento. Come vi dicevo, come vi dicevo. Ancora, come vi dicevo, come vi dicevo. Grazie. 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 Sabrina, miracolosa. Se non è la prima botta, la seconda. Certo. Vabbè qui. Queste sono le notizie biografiche che vi ho già dato prima. Questa è tutta la filmografia. Ripetiamo 3, 6, 9, 12, 14. Ecco, questa è la memoria dell'altro. Quindi sono le sequenze veneziane in vicino di San Marco. Grazie. 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 La posizione è dietro di tutta una serie di spezzoni con la piccolina, cioè c'è testimonianza proprio, no no, era alta, era oltre 1,70 m, sì sì sì, e poi le ricercava le espressioni in maniera proprio molto ricercata, assolutamente, era alta, si può capire come ci si può innamorare di lei come concetto, naturalmente, va bene, quindi, Io ne ringraziare nuovamente, adesso tre ringraziamenti anche Stefano Barini, il mio che ha fatto per il PowerPoint e altri filmati, ma ripeto, da tantissime fonti arrivano i contributi e quindi si prosegue questo lavoro. Per la prossima puntata, adesso se ci sarà una proiezione di film con musica dal vivo sotto, ci riproponiamo di riproporli anche qui a Venezia, vediamo, nell'università della terza età, possiamo fare uno happening di Lida Borelli. Così, adesso scendo di sotto, vedete le gigantografie lungo il muro, chi non le ha viste salendo, se le rivede adesso discendendo. Cara Irene, non ti abbraccio, non contagiati, non contagiati. Grazie, e questo è un omaggio per te, ricordo di questa bellissima serata che ci hai dato. Grazie a tutti.